Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare delle Sense Ride 3. Ciao, sono Manuel Di Geronimo, personal trainer ostopida, laureato in scienze motorie, specializzato in Sparta e OCR. Sono un amante della natura e della corsa e per questo oggi vi voglio parlare di questa scarpa fantastica, la Sense Ride 3. Ok, vi ho fatto vedere magari in altri episodi scarpe che io adoro per le competizioni e quando invece si parla di trail running andiamo a utilizzare una scarpa come Sense Ride 3. Cosa è la Sense Ride? Diciamo che è il miglior compromesso tra prestazione e comfort. La Sense Ride è una scarpa comodissima, più ammortizzata, perfetta se volete fare il trail running, una scarpa davvero buona, comunque che sarà molto a duratura, che vi permetterà di avere performance giusta con il comfort. A differenza della Sense Ride 2 è una scarpa un attimino più reattiva, ovviamente la Sense Ride 2 posso ritenerla più una pantofola per andare a giro, camminare. Questa, essendo con una intersuola un attimino più reattiva, sarà più prestante. Quindi cosa vuol dire? Ottima scarpa se volete anche correre delle gare, però secondo me è il top se vogliamo fare l'allenamento. In primo luogo è una scarpa molto economica, quindi è una scarpa accessibile, è una scarpa comprabile ed è una scarpa duratura. Secondo, si adatta benissimo anche per le persone più pesanti, le persone che vogliono competere e vogliono allenarsi, ed è quella scarpa intermedia per le persone che vogliono fare trail running, trail running più lunghi o anche Spartan. L'ho utilizzata in diverse Spartan, tra cui Tenerife, Mallorca, terreni dove c'è meno acqua e avevamo bisogno di un terreno più duro. Cos'è che adoro? Suola è super reattiva, funziona benissimo con fango, acqua, chi più ne ha più ne metta, terreni bagnati, terreni fangosi e via dicendo. L'ho utilizzata in un altro colore, perché questa è nuova, per fare la via degli dei. Ho fatto tutti questi chilometri, questi 120 chilometri in più giorni ed mi ha salvato la vita. Avere una scarpa così ti permetterà di avere una performance duratura. Che dire, se volete iniziare a correre, volete una scarpa comoda, una scarpa, comunque una calzatura che vi permetta anche di competere e che non dobbiate cambiare, senza Ride 3 è il top. Spero vi sia piaciuta questa breve review, ragazzi, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al mio canale. Da me è tutto, ciao da Manu e di Geronimo. Grazie.